Beh, chi è sta faccia? No, guarda, oggi è giornata pessima. Sono stato tutto il giorno nei commenti di YouTube a spiegare alla gente che Fedez non è un rapper. Ancora pensano, sì, fa rap, fa pop ed è commerciale. Basta. Che poi ho visto anche un video di un YouTuber che prima faceva video comici, ora ha scritto il libro e si è fatto pure una canzone. Stiamo scherzando, ma tutti possono scrivere. Sì, ma se riesce a emozionare almeno una persona, quella canzone vale la pena di esistere. Ma no, ma no, se ne devono sta accanto a loro. Ancora io credi? Non ti spiego, beh, vediamo. Ogni giorno stessa storia, questa vita, ma la gioia. C'è chi scrive, fa il poeta. Chi si droga, è un profeta. Chi ci prova è uno sfigato, ma se copia viene accettato. Se è successo è la fortuna, il fallimento ci accomuna. E poi ci pensi mai che come tu vuoi non va mai. Noi siamo qui, ma criticare. Ci vuoi trovare? No, lo so, lo so, lo so che non va bene. Ma quanto è bello dire lo fate male. Ecco il passo. No. Ecco il patto. No. Io non mi muovo e penso a criticare. Ti va bene, ma non lo dire. Senti a me, a te l'invidi. C'è chi vince. Ma ha rubato. E c'è chi perde. Non lo meritavo. E poi urli. Serve cambiamento. E poi cambia, ma non cambia il vento. La voglia di tirare fuori il petto. E meno di scendere giù dal letto. E poi ci pensi mai che come tu vuoi non va mai. Noi siamo qui a criticare. Ci vuoi trovare? No. Lo so, lo so, lo so che non va bene. Ma quanto è bello dire lo fate male. Ecco il passo. No. Ecco il patto. No. Io non mi muovo e penso a criticare. Lo so, lo so, lo so che non va bene. Ma quanto è bello dire non lo sai fare. Ecco il passo. Ecco il patto. Io non mi muovo e penso a criticare. A criticare. A criticare. A criticare. Ma poi sai che io non vorrei Sembrare un po' scortese sai Io critico per aiutarti Io lo faccio solo per te Solo per te Ma non prendermi in giro sai Mi hai detto al massimo Dovai? Ma sai cosa ho sentito dire? Che fare a pezzi è il lavoro di chi Non sa costruire E allora perché ci piace tanto questa critica al negativo? Forse perché un tempo la cultura si associava alla capacità di critica E quindi ora si pensa che criticare qualunque cosa sia intelligente Ma in me in un mare di critiche negative Il vero potere ce l'ha chi pensa davvero con la sua testa Vi rubo un ultimo minuto per dirvi che questa canzone Musica e audio sono state interamente autoprodotte E si vede Grazie Questo era per chiedere scusa in caso la qualità non fosse un gran che Ah pure il modesto? Senti ma almeno qualcosa di carino la vogliamo dire o no? Sì se uno volesse criticare Grazie Per acquistare e criticare si può andare su iTunes Oppure si può ascoltare su Spotify e su tutti i digital stores Di cui vi lascio il link qui in descrizione No io intendevo proprio criticare Ah per quello ci sono i commenti qua sotto Vado subito Vabbè va Qualmai noi ci chiudiamo Comunque vorrei che ho chiuso Non malissimo il ragazzo eh Lo so lo so lo so che non va bene Ma quanto è bello dire lo fate male Ecco